Mi nascondete tra i rami? Oh la la, oh la la Che c'è? Rosso? Quasi Può il mio, può il mio, può il mio, può il mio Eh vedi, man mano che vede avanti ce la seguiamo Allora vuole che dobbiamo andare via di qua Sì Volete che andiamo via? Perchè se di là non dava più niente e ci sta, teoricamente ci sta indicando L'uscita Sì Volete che rimaniamo? No amore, sì sì, no Andiamo via se di là non Noi andiamo via, va bene? Sì Ok Dai andiamo alla trastatura, vediamo Ciao 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 Ifest Grazie a tutti. 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 E' dritto. Come se un pezzo di legno è stato stracinato. No, è stato stracinato perché l'ha messo dappertura. E' l'ha messo dappertura. Anche se un pezzo di legno è stato stracinato. Grazie a tutti. No, è stato stracinato. Poi vediamo le incitrazioni. Poi questa qua. Poi questa qua, boh, saranno quelle... Guarda qua pure. Guarda qua. Oh, qua è stata spostata la pietra. Guarda qua. Questa è stata spostata la pietra. Guarda il segno. Ragazzi, guarda il segno. Mamma mia, dobbiamo vedere la GoPro. Speriamo che non si è scaricata. Guarda il segno. È di una scarpa o di un... No, no, non sia che quella pietra lì. Guarda qua. Ci sono più segni, guarda. Uno, due, tre. Eh, ma la pietra è sporca di farina alla fine. Sì, ma guardate qua i segni, ragà. Queste sono scarpe. Ma non è che sono le nostre. No. No, non l'abbiamo. Questa? Eccole, guardiamo chi ha sotto così. No, no, io non ce l'ho. Allora, tu sembra che c'è il pneumatico della scarpa. Ok, guarda qua. Si avvicina... Forse quella della giove, però non... Guarda, io non ci sono passato sopra. No, infatti, io non sono passato sopra. Ma ho fatto attenzione apposta. Sì, ma questo qui, eh. Questo, raga, questo. Ragazzi, c'è uno spazio qua. Sì, è quello, sì, è quello. Eh, c'è uno spazio, raga. Perché lì c'era qualcosa, eh. Ragazzi, il sensore, ma come anche se... No, no, noi, siamo noi. Ma lì c'era qualcosa. Eh, rivotore. Raga, bisognava lasciare la notturna qua. Eh? La notturna, sì. Ma non l'abbiamo lasciato quella, scusa. No, non è notturna. No, però questo qua, il K2, ha una bella illuminazione. Ok? Possiamo rivedere subito. Eh? No, no. Comunque, raga, qua... Scusami la cosa. Chiudiamo a casa. Lì sono segni di scarpe, ok? Sono segni di scarpe, ragazzi. Ok, ma quella là... Ma qui nessuno ci è venuto. Ma lì c'era qualcosa. No, una volta che abbiamo messo... Qua su? No, sì, siamo passati di là, ti ricordi. Tu hai fatto la ripresa, vero? Sì, siamo passati tutti di là, Mario, e poi siamo ripassati. No. Tu hai fatto la ripresa quando l'avevamo messo, vero? Sì. Sì, ma... Ma non c'era quella... Qui era tutto... Qui c'era un triangolo. Eccolo, sì. Sì, che c'era... L'ho fatto apposta la ripresa. Che, che, che... Non si è spento il... Il sensore di movimento. Ok, andiamo via. Dobbiamo controllare bene questo. Questa ancora arrecca? Questo qua? Sì. Sì. Non ne ho idea, guarda. È quella, è quella là, ragazzi. Con questa. No, comunque senti. La farina l'hai messa in tre punti, però. No, due. Questa ha pure l'audio, vero? Sì. In tre punti l'hai messo, sbaglio. No, in due punti. No, no, l'arco di quella porta è questa qui. Però io mi ricordo che l'ha messo omogeneo. E per forza, nessuno ha toccato... Lì? Poi ci sono tre impronte, no due. Eh sì, io ho fatto così. Qua, nessuno te metto. Ma quella linea lì? Qua, nessuno te metto. L'ho fatto questa linea qui, non mi convince. No, no, non c'era qui, non c'era. No, no, no. Poi parliamoci chiaro. E queste scarpe qua, ragazzi. Nessuno ha prestato la farina. No, abbiamo fatto attenzione. Tutti ci siamo alzati. Tutti abbiamo alzato la gamba. Poi... No, vabbè, sì. E questo spazio qui, ragazzi. Questo spazio qui. Dobbiamo vedere nella registrazione questo spazio qui. Quando io ho messo la farina, se c'era. Perché se non c'era la farina... Ma è impossibile che non c'erano. Ragazzi, secondo me, se quello fa abbastanza luce, abbiamo ripreso qualcosa. Sì. Quello fa abbastanza luce. Possiamo anche evitare che fossero stati degli animali. Sono problemi di scarpe. No, no, non sono animali. Sono problemi di scarpe. Sono problemi di scarpe, ragazzi. E quando abbiamo messo le scarpe... E quando abbiamo messo le... Possibilizzare una cosa? Sì. Prova a fare l'improvo con la tua scarpa. No. A me questo sembra... Qual è il scarpe? La forma... Ma... Del posteriore? No, no. Del davanti. Sembra uno scarpe grossissimo. Guarda questa. Guarda questa. È piccola. che sembra come suoletta che scappe. Le prime converse. Con i rombi sotto la suola. Comunque sembrano un po' di piccole. Non sono le mie. Non è che le abbiamo prestato. Ma nessuno ci ha dato sopra. È impossibile. Abbiamo fatto attenzione. No, no. Però lo sai che togliendo quella che si vede netto. C'è la sembra che manca una pietra. La sembra che manca una pietra. Eh sì, guarda che sporca. La sembra che manca una pietra. È stata trasportata. Guarda incalzata. No. Alza il piede, amore. No, c'è anche un triangolo... Un triangolo, una V, qualcosa. E le mie? Non può essere. Cosola. Ah, non è la mia. Non è la mia. Ok. Aspetta. Guarda che faccio qua. Le mie sono identiche a quelle di Letizia. Faccio qua. Posso? Posso farlo qua? Posso. Vedi? No, sono diverse. Non sono queste. Mettila tua, per favore. Visto che tu non riesci... No, no, no. Visto che tu non riesci ad alzarla. Metti qua, per favore. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma lui è già passata da di... Infatti. No, noi siamo passati tutti. Sì, ma non ho messo la farina. L'abbiamo messa dopo. Sì, l'abbiamo messa dopo. L'abbiamo messa dopo. Perché abbiamo messo anche quella. L'abbiamo messa prima. Proviamo. L'abbiamo messa prima. Proviamo. Lo rimetti di qua, però, di qua, di qua. Eh sì, verso uscire più o meno. Sì, verso uscire. No. È retinata con il pezzo centrale. No, però io, allora, lascia stare. Puoi provare a me. Vai. Per dire che sei stato l'ultimo quando hai posizionato la cosa? Sarebbe questo. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Si assomiglia più alla mia, però non è la mia. Capito? Nel senso che ci sono i quadrettini. No. Lascia... Ma neanche... Non c'entra niente. No, no, no. Tu nemmeno. L'hai visto pure le tizie. Ma io sono stato attento, eh. Vai con me, per favore. Aspetta, scusami. No, non c'entra niente la tua... No, non c'entra niente la tua... No, no, assolutamente no. Si assomiglia più alla mia. Come potete notare, la farina è stata appena messa. Cosa stanno qua? Un'arancione qua. Arancione. Si. Togli la torcia, fammi fare la ripresa così. Giusto? Perché si nota meglio così. Così no, niente. Ok. No, sono diverse. No, no, no. Sono diverse. A meno che non è passata un'altra persona che non sia uno di noi. Eh beh, ovvio. Questo è ovvio. Però è rimasta qua. Non è uscita di qua. Oppure se ha provato a uscire di qua... Però sta linea non c'era. Non c'era. Se ha provato a uscire di qua... Ma quella linea lì non c'era. Sì, perché questo che finisce qui? Era la punta vera. Non c'era quella linea. Non c'era. E' ma che siamo andati via. Non capiva di andare in via. Non siamo in fuoco. Sì. Guarda la mia. Come la stavi mettendo c'era. Quelle queste qua sono quadro fin grosse. Che finicino il quadro grosso. Non lo so. Comunque non c'era. No, non c'era. Non sono scarpe nostre. Quelle là non sono scarpe nostre. No, quelle là non sono scarpe nostre. Quelle là non sono scarpe nostre. Quella c'è stata qualcuna qua. Siete stati voi? Sono di vivo? Siete stati voi? Siete stati voi? Qua la sessione di questo box qui? Sì. Siamo completamente al buio. Riuscite a illuminare per favore il sensore di movimento che c'è dietro di noi, ovvero dietro Mario? Lo illumino così lo vedete. Questo qua bianco. Lo vedete? Basta lo vedete al giro. Riuscite a illuminare per favore? Ora spengo la luce così voi se volete non potete illuminare. Grazie. Tanto lo sappiamo se siete qua. Illuminato, dai che colore. Non lo so. No, 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 di qua. Una mossa come una... Sembra una pitrolina. Sì, sì. Una mossa come qua. Eh ma lo sai che è inutile che guardiamo a terra perché è pieno di pitrolino quindi. E comunque con quello si è mosso. Eh sì. E non ci sono neanche dei mari piccoloni. Allora che riprendete, magari se vi so qualcosa. Forse sentite sì. Io sono qua. Dai. Dai. Per favore. Illuminate il K2 e poi ce ne andiamo. E il K2 sì. Quello devo conoscere. Il sensore per favore e poi ce ne andiamo. Non ti andiamo. Vuonna. Edwin. Irre. E' di qua. Corre. Per favore. Per favore. C'è maglia. E' di qua. La.